signora posso chiedere da quanto tempo in fila dalle 13 che ore sono 14 e 32 quindi da un'ora e mezza posso fare una domanda anche a voi da quanto tempo siete in fila da un'ora scusate posso farvi giusto una domanda da quanto tempo siete in fila un'ora un'ora 50 minuti l'ultimo della fila entra tra le ore e non è corretto questo vale per tutti anche per quelli che io ho fatto aspettare prima quindi l'uno entra a fare una spesa l'altro si deve diventare senza soli prima devo aspettare perché se l'uno di voi fa così c'è gente che non fa la spesa l'unica Scusate, una domanda Più o meno da quanto tempo siete in fila? 40 minuti Scusate, una domanda Scusate, una domanda Scusate, una domanda Grazie a tutti.